Ciao a tutti! Benvenuti nel nostro canale! Benvenuti in questo nuovo video, finalmente insieme, anche se lontane, ma vicine, anche se con Google Meet, che situazione, dai però meglio che niente. Ecco, se mi vedete guardare di là è perché guardo lei in videochiamata, guardo in basso perché vedo lei di là, giusto per interagire anche noi, no? E niente, quindi cosa vogliamo fare oggi? Eh sì, era l'unico modo per poter fare questo video carino, diverso dai soliti, diciamo, e direi di iniziare. Iniziamo, allora, abbiamo individuato su TikTok sei dei beauty hacks più famosi, ecco, e volevamo provare a riprodurli per vedere se effettivamente sono entusiasmanti per come sembrano nei video. Quindi direi di iniziare. Sembrano, infatti, infatti, sembrano, sembrano wow e quindi vogliamo provare assolutamente se è così. Quindi, alla fine di questo video, o saremo wow o saremo dei pagliacci, in sostanza, è questo. Ok, iniziamo, qual è il primo? Allora, questo video la ragazza lo chiama This is Crazy, proprio perché adesso vedete che cosa faremo. Abbiamo delle palettes, io ho queste qui, perché devo prendere un po' di colori, e io ho questa. Sì. Ok. Dobbiamo fare quello che fa esattamente la ragazza. Facciamo solo una guancia, cioè praticamente dobbiamo metterci dei puntini in faccia, tipo varici. friccella. Il rosso è andato. Poi, che colore serve? Il bianco. Il bianco. Il bianco. I miei ombretti sono matt. Sì, anche i miei. Questa palette è bellissima perché non ha neanche uno shimmer, sono tutti super matt. Boh, io ho finito col bianco. Ok, anch'io. Poi? Blu. Blu. Quindi io uso... Because our skin has always something blue? Oh, yes. Lo diceva la ragazza. Sì, fa. Ok. Ok. Il giallo. Il giallo. Il giallo. Io uso questo tipo oro. Io uso il giallo giallo. Duvido. Non lo so, non lo so. È una volta molto molto tipo bante questa roba. Secondo me non sono tipo pagliacce. Sì. Ok. Boh. Aspetta. Perché questo giallo non è molto giallo. Boh. Con un pennello... Io ho questo. Con un pennello da fondodinta, penso abbiamo lo stesso. Sì, lingua di gatto. Perfetto. Iniziamo a fare dei movimenti circolari, no? Vai. Vado, eh. Questo qui quindi dovrebbe fare il petto fondodinta, no? Esatto. Esatto. Il risultato dovrebbe essere quello. Ovviamente in dito io non avevo nulla. No, anch'io. Beh. Beh. Com'è? Com'è? Il mio è stranamente bello. Devo dire che... Devo dire che... No, notano questi qua. Cioè, veramente... Ma non so se veramente... Cioè, si vede? Cioè... No, dalla videocamera non rende, però... Non so se si vede, ma è veramente... Un po' sì, forse. Sì, si vede. Si vede. Questo... Questo è più... E poi un colore... Cioè, si è andato... Naturalissimo! Bra! Quindi, il primo trucco di TikTok approvato. Approvato! Funziona! Roba da macchina. Non ci avrei scommesso un centesimo. Un euro, niente. Ma neanche io, veramente. Fantastico. Bello, bello. Molto bene. Il secondo video che abbiamo trovato su TikTok è questo qui. Non ci avrei scoperto. Non ci avrei. sì bellissimo perché veramente anche questo da non crederci boh e non lo so se effettivamente è come il fondotinta quindi come prima cosa la ragazza utilizza un correttore no ok io e anche tu direi abbiamo lo stesso di Benefit e lo anterrò su tutte le labbra adesso che tal dobbiamo io faccio con la beauty blender che finalmente è ritornata in casa ma è nuova non è quella di stessa quindi adesso lei picchietta è bruttissimo bruttissimo ok questo serve in teoria per nascondere le labbra la forma delle labbra naturali naturali ok a questo punto prende una matita scura scura e la passa in questo modo a questo punto non bisogna seguire il disegno delle proprie labbra ma bisogna andare oltre quindi così in teoria così io mi guardo al cellulare perché non ho uno specchio poi lei con la stessa matita praticamente andava a riempire il vuoto che effettivamente c'è tra le labbra e il disegno no si devi continuare si le colora la parte tra le labbra e il disegno ok ci sei con un rossetto e poi mette un rossetto io ho questo qui di wicon io uso questo qui di higher revolution ok vado ovviamente questo serve per ingrandire le labbra si ho capito ma sembro moiro fei questo qui è molto discutibile o meglio assolutamente bucciato perché si può andare in giro con questa labbra ma si vede si vede cioè si vede che si vedono le labbra sotto allora o o lo fa chi non ha completamente labbra cioè deve avere zero zero liscio così dritto io un po di labbra le ho quindi ma io non le ho così carnose però cioè allora ma adesso la domanda è dobbiamo continuare il video così adesso mi rifiuto di continuare con queste labbra così anch'io andiamo a togliere andiamo a togliere un attimo questa cosa orrenda oddio non fatelo non fatelo oppure fatelo per carnevale non lo so ma non uscite in queste condizioni ok il terzo video che abbiamo trovato speriamo sia migliore rispetto si tratta sempre sempre sulle labbra speriamo questa cosa però che sia migliore e non sia una schifezza del no no però secondo me questo qui è meno c'è quello lì era proprio eccessivo nel senso no 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 poi allo specchio ancora peggio correndo ma però mi sono vista per verità cioè no esatto qui c'è un po di contouring quindi è un po una cosa più normale tra virgolette per cui proviamo anche questo quindi è vai ok io uso la mia colette di liquidi per il contouring e lo andiamo a passare fuori dalle labbra no? 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 . Sì, stiamo sempre facendo contouring E anche sopra Ok Ok, poi i laterali, cioè sotto di lato Ok E sopra Ok, adesso Adesso prende la Beauty Blender Va a mettere un goccino del suo fondotinta Quindi il fondotinta del proprio incarnato Ma proprio una puntina minuscola Così Aspetta che io sto usando questo di Yves Saint Laurent Da io Essence Con la Beauty Blender Ok Vai e vado E vai a picchiettare sulle labbra Tutte le labbra? Sì, devi uniformarle Io ho le labbra arancioni Non so Io non vedo mai niente Sembro sempre un pagliaccio Ok, io adoro le mie labbra Tengo le mie labbra Non faccio niente di fare Comunque per ultima cosa Lei metteva un rossetto Lei metteva un rossetto Un rossetto Io sto andando a mettere il mio preferito Se non l'aveste capito Quello di Essence Questa volta E la Mud About Mud Ok E forse è uguale Anch'io Stavolta uso questo Sì, sì Solo che hanno colorazioni diverse Il mio è il Dangerously Yours È molto nude il mio Anche lei faceva Usava un nude Sì, anche il mio Sì Sì Ok Sembra come Se fosse la prima volta Che metto il rossetto Quindi tutto fuori dal bordo del labbro No Continuiamo con Un'altra prova Dei vari video TikTok Il quarto Il quarto Dei sei Ci serve Questo Che cos'è? Sì Lo scotch Ok Dello scotch Io Io Vo solo quello da imballaggio Quindi Trovo questo E si tratta Degli occhi Questa volta Quindi Jasmine Toglie gli occhiali Servono due pettettini Di scotch Di cui Che andiamo ad applicare In questo modo Quindi a partire Da sotto L'occhio Quindi seguendo Appunto La rima sotto A continuare Così Prende uno specchietto Perché già sto senza occhiali In più Da lontano Con l'altro pezzettino Di scotch Che facciamo Lo mettiamo sopra Ok Lo mettiamo sopra Questa volta Lo mettiamo Si va a creare Una sorta di Triangolino Sì Una codetta Diciamo così Siamo bruttissime Ok Andiamo a prendere Un eyeliner Io uso sempre Questo Il solito Di Essence Lì è il mio Solito di Astro E dobbiamo A questo punto Andiamo a colorare Cioè Lo mettiamo Totalmente a casa Allora La parte Il triangolino Che è rimasto Senza scotch Giusto? Ok Però in teoria Se io vado Totalmente a caso Poi a lei Esce una roba Stratosferica Vai Ok A questo punto Andiamo a colorare Tutta la parte Il triangolino Che è rimasto Libero Togliamo lo scotch Vediamo che cosa Ne è uscito Cuore 1, 2, 3 1 3, 2, 1 Via Aspetta Et voilà A parte che arriva Tipo Ma scusami A te Riuscito Sì Un pelino Una Una pulita È andata fuori Però tutto sommato Non è male E allora sono io Che ho messo male Lo scotch Perché è una roba Scena la mia Vabbè Vabbè Diciamo che Questo Diciamo che Non è male Io non lo Non lo metto così Non faccio la cosina così lunga Non mi piace che esca fuori Che vada così fuori Però Diciamo che Non è male Per chi magari È meno esperto Potrebbe essere Un Aiutino Secondo me Una soluzione Però Tipo Devi riuscire a mettere Lo scotch Veramente bene Perché Io l'ho ripreso A mano Perché Era osceno Osceno Era uscita fuori Una roba Senza senso E E boh Quindi No Per me È bocciato Come l'ho fatto io E no Passiamo Al quinto Trucco Di tiktok Che è quello Che più mi entusiasma In realtà Più mi incuriosisce Il foxy eye Infatti Per questo Abbiamo lasciato L'altro occhio Senza eyeliner Appunto Per vedere Un po' La differenza Tra i due occhi In sostanza Cosa fanno Con Le Pulse Lashes Le ciglia finte Anziché Seguire La linea Del pro Della propria ciglia Le mettono Con Con la punta Esterna Sollevata Quindi Forse Più facile A vedersi Che a dirsi Io prendo Le mie Solite ciglia Di Eilure Quindi Questo Va messo Non Bene Diciamo Che va messo In modo sbagliato Cioè La punta Dalla La punta Dell'occhio Interna Va messa Bene A seguire Bene E la fine Che va messo Più Su Dritto In su Non segue L'occhio Dobbiamo Lasciare Quindi una sorta Di codino Anche qui No Ok Quindi Già mi piace Adesso Con L'eyeliner Andiamo A Diciamo Disegnare Nella parte In cui Abbiamo Lasciato Lo spazio Ok Andiamo A Disegnare Fino A Dove Fino Ehm Come se Mettersi Normalmente L'eyeliner Però Devi coprire Tutti i buchi Che hai lasciato Questo Questo In teoria Serve per allungare L'occhio Serve per fare L'occhio Da Foxy Foxy Ehm Volpe Non mi dispiace Devo essere Sincera È proprio È diverso L'occhio È diverso Non mi dispiace Bah Io Io le metterei Normalmente Sì Angio Quello è sicuramente Però cambia Non più la forma Dell'occhio Sì Sì Non è proprio Così evidente Cioè Non si vede Che è messo male No La cina No 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 Però Non si deve vedere Si vanno a riempire No no Si va a riempire Sarà che a me non piace Questa codina lunga Però l'effetto Devo dire Che non è male Non è male Questo non è male Mi piace No Sì Questo ho promosso Ma però Cioè Io mi sto guardando Abbiamo un occhio Con le ciglia Finte E L'effetto così L'altro occhio In un modo Le labbra Questo viso Questo è l'altro del viso Col fondotinta E questo no E questo no Diciamo che è veramente Osceno Osceno Davvero L'ultimo curioso Anche Si tratta di Number six Number six L'ultimo Si tratta di Un effetto Andiamo a ricreare Un effetto Naturale Delle Delle No? Esatto Sì Molte persone Da tantissimo Di moda In realtà Le lentiggini Finte Tant'è Che hanno Anche Inventato Un tatuaggio Ovviamente Di quelli Che fai per qualche ora È vero È vero Quindi andiamo a ricreare Questo effetto Lentiggini Con che cosa? Ci serve Un gel Per Le sopracciglia Noi usiamo Questo di Revolution Sì Con lo scovolino L'importante è quello Praticamente Esatto Ci serve Lo scovolino E poi uno stuzzicadenti Uno stuzzicadenti Esatto E andiamo a fare Questo movimento Chiudiamo gli occhi Perché altrimenti Sì Perché sennò Facciamo un disastro Vai Ci sei? E andiamo a fare questo movimento Sì Vai Io non Oh no Mi sono disegnato un neo Anche io Ma non funziona Non funziona Non funziona Non schizza Non schizza Scusami Se noi Ma neanche per me Se noi facessimo Tipo così Così funziona Scusami Anziché fare Come il video Di tiktok Sì ok Lo stai inventando Tu adesso Sì È perché Non funziona Non funziona E quindi Troviamo la soluzione E se invece Provassimo Col mascara Nero Nero Boh Io voglio provare Vai 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 Com'è? Moschito Nel pazzo Niente Oddio 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 Ok Diciamo che L'effetto lentigini Non funziona Quindi No però Facendolo così Funziona Come stai facendo Con lo stesso scovolino? Sì Oddio Sto comiando Scusami Ok Però Le andrei Un attimino A sfumare Però è carino Come effetto Va bene Io preferisco Senza lentigini Ok No È carino Invece L'effetto Lentigini Quindi Il video Anche questo Non ha funzionato Ok L'unico Che ha funzionato Davvero È stato il primo Praticamente L'unico Fondotinta Sì L'unico Anche il Foxy Eye E anche quello Sì Quello lì Anche ha un effetto Un effetto Che di no E devo dire Anche Anche questo Con un po' Anche questo Dell'eyeliner Dello scotch Ok Ok Però imparate A mettere lo scotch Perché davvero Se vi esce Una roba del genere Ok In tutto questo Però Io Mi sono divertita Un sacco Anche io Tantissimo Certo Sembriamo Arancia Meccanica In questo No infatti Cioè Veramente Inguardabili Oh mio dio Siamo riuscite Finalmente A fare Una cosa Insieme Anche se Lontane Ok Però abbiamo Tanti Tanti progetti Che abbiamo iniziato Di cui abbiamo iniziato A parlare Ok Detto questo Speriamo che Vi siate divertiti Anche voi Con noi Speriamo appunto Che vi abbiamo Dato Un attimo Di divertimento E Ricordatevi appunto Di lasciare un like Se vi è piaciuto Di iscrivervi al nostro canale E di attivare la campanellina Ci vediamo al prossimo video A presto Ciao